Buongiorno a tutti, sono il Notabris96 e questa è la seconda parte dell'apertura dei 9 pacchetti, stavolta 9 pacchetti, di Confini Varcati. Questa volta tocca a Keldeo. L'artport di Keldeo. Keldeo, versione risoluta infatti. Speriamo in qualche cosa di buono stavolta. Esatto. Codice. E abbiamo Delcatti, Gloom, Wobbuffet, Tangela, Numel, Gligar, Skitty, Pidav, Washwater Reverse e un Vileplume. Olografico. Perfetto. Molto bello. Secondo. Codice. Sentiamo qualcosa? Sento questa e qualcosa di grosso. Perfetto. Sento le tipiche zigrinature da full art. E noi ne abbiamo una sola, perciò Darmanitan, Vitorso l'elmo, Watchog, Pozione, Frillish, Pikachu, Spoing, Scambio, Patrat Reverse. E ora un pacchetto del culo. Vediamo un pochino. Però, 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 però. L'Andalus X full art. Molto bene. L'avevo sentito che c'era qualcosa di buono. Eh, diciamo che per questa parte abbiamo finito. No, perfetto. Molto bene. Andiamo avanti. Molto bella. Questa è la seconda full art, visto che abbiamo già a Kyurem Nero. Che l'abbiamo trovato nell'apertura delle linee. È vero? Che l'abbiamo già fatto vedere. Ok, questa è la seconda full art di Confini Marcati. Molto bene. Terzo pacchettino. Codice per voi. Ecco qua. E abbiamo Dewott. Dewott. Azumarill. Azumarill. Titolo una testata. Tony. Tony. Ah no, questa è. Veniped. Sensryu. Sighter. Tylow. B-Bri... Eh sì, vabbè. Sì, è buono. Il Lottovo, mi sa che tanto bravo. Blitzow. Che bravo. Perfetto, ti ho un applauso. Electro Reverse. E un Unfezant. 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 Ok. Codice. E abbiamo Cryogonal. Tusclops. Minfu. Cotony. Pokeball. Togepi. Sighter. Psyduck. Ricerca computerizzata. L'asso tattico. E uno Shaming. Shaming. Molto bello. Perfetto. Quindi, ecco a voi il codice. Perfetto. E abbiamo Tony. Sandslash. Quello è un Sandslash? Madonna. Sì, dovrebbe essere un Sandslash. Petit Lil. Darumaka. Scambio. Oshoot. Ligar. Spinda. Spinda Reverse. Kyurem Nero. È fantastico. Molto bello. E i due Kyurem Bianco e Kyurem Nero. Ci sono anche Hex. Speriamo di beccarne almeno uno. Sì, ci sono gli Hex e le Foulard. Sì, ci sono gli Hex e le Foulard. Adesso non mi ricordo esattamente che in queste espansioni dovrebbero esserci anche tipo Blastoise e Charizard, se non sbaglio. Charizard, sì, dovrebbe esserci. Quindi, ecco il codice. Esattamente, mi sembra che ci siano anche loro. E vediamo un po'. Quindi abbiamo Cryogonal, Gotorita, Delibird, Frillish, Lillipop, Pikachu, Buneri, Ricerca di Energia, Purloin e Camerut. Purloin è la Reverse. Sì, Purloin è la Reverse. Scusate, e Camerut. E Camerut. Andiamo avanti. Il codice. Ok. Un'altra Full Art. Non è Full Art, ma secondo me è una Hex. Da come sento la cera. La cera. Quella roba lì. Quindi, la lisciità. Megabolt. Esatto. Pig Night. Palestra di Alisopoli. Tepig. Taillow, Oddish, Krogank, Pidav, Flygon, Reverse. Ce l'abbiamo già. Vabbè. E adesso vediamo un po' se aveva ragione. Eeeh. Aveva ragione. Abbiamo finito Landorus. Ecco qua. Landorus X e Landorus Fural. Molto bene. Martell testa e giudizio terrestre. Questi erano i pacchetti di Keldeo, però. Se uscivano pure nei pacchetti di Landorus. Eeeh. Boh, vabbè. È importante che è uscito il caro Landorus. E quindi. Fantastico. Molto bene. Una e due. Molto bene. Per ora sono usciti una Full Heart e una X. E non è affatto male. Non sono andato male. Avendo ancora lanciato dei pacchetti. E infatti, avendone ancora più di metà. E abbiamo il codice per voi. e abbiamo Raticate, Whirliped, Krogank, Dwebble, Lectabuzz, Ricerca di Energia, Chinchou, Squirtle, Watchog Reverse e un altro Melovetta. Olo. Ultimo pacchetto questa volta. Con Keldeo. Con Keldeo. Scodice. Ok. Beh, comunque, questa seconda parte è stata... Uh, 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 uh. Molto fortunata. Questa seconda parte è stata molto... Uh, 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 uh. E abbiamo Golduck, Swanna, Munna, Trapinch, Psyduck, Voltorb, Snipey, Makuita, Mappacitta Reverse e... E... Fantastico. Pure in bianco X. Full Heart. Full Heart. Molto bene. Noi avendo il nero, che culo. Adesso abbiamo praticamente tre Full Heart di queste. Tre su sei dei Pokémon. Sì, perché i Pokémon sono sei. Perché poi ce ne sono altre tre che sono... Mi sembra che sono Celebi, Cresselia, Chiurem bianco, Chiurem nero, Landorus e Keldeo. Fantastico. Se non sbaglio. E abbiamo Chiurem nero, Chiurem bianco e Landorus. Bellissima. Molto, molto bene. Chiurem bianco X. Eccolato. E abbiamo preso anche un'altra Full Heart e un'altra X. Beh, direi che questa seconda parte è andata abbastanza bene. Parecchio fortunata. Queste sono le carte più... Perfetto. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Ci vediamo con la terza parte. Grazie a tutti.